Una piccola comunicazione che ho visto è che la grabazione della classe 4 non si l'aveva pubblicato, non so se in conseguenza non lo grabano a verla e che di hecho la visualizzata. Ora mirando e visto che abbiamo un draft come è stata pubblicata oggi, lamento, però se non apparece chiaramente la scargo poco despesso, se non apparece mi avvisano, perché se non apparece, qualcosa ha passato. La vez anteriore, ayer, se stava mirando meccanica e statistica e, appunto, se stava avaluando, vienendo di quello che sto mostrando, è una maniera di calcolare le distribuzioni. Quindi, hai altra maniera per mostrare che, appunto, la, appunto, la, appunto, la distribuzione di Maxel Bonsman llega da, appunto, una simple ipotesi e si può ottenere, hai una ragione per la forma, come se ve. Quindi, abbiamo parlato che hai la funzione di particione, che, diciamo, la funzione che mi dice è come se distribuye lo vario, mi particola, io tengo N grande particola, e questo se distribuye in lo vario livello energetico, EI, con NI, particola, nel livello EI. La maniera in cui riparto è la funzione di particione, che tendrà cada una di queste una probabilità e, ovviamente, la, in mi stato, mi sistema, si va a incontrare in un, in un, in un stato di statistico che, eh, generalmente, è parte della funzione di particione che è più probabile. Banalmente, perché, come dice, la probabilità del numero di estati che mi interessa al rispetto al total, e, eh, maggiore è il numero di stato disponibile, maggiore è la probabilità di poterlo, eh, la probabilità di poterlo, eh, la probabilità di poterlo, eh, in questa maniera. Di conseguenza, se io ottengo che lo, il modello, il modello, il modello, il modello, il modello, il modello, con una funzione particione e l'altro 10 con otras 10 ovviamente la cosa più probabile è che non incontri quella del 90 anche piccole varieazioni generalmente se mantiene dentro della funzione particione quindi noi calcoliamo per Maxwell Boltzmann la ipotesi particolari identiche e distinguibili qual era la probabilità poi saciamo il distinguibile simplemente dividendo per n fattorial che è la differente maniera di reordenare n elementi corregiamo che cada livello ha una certa probabilità intrinsica che i di conseguenza che ogni partenza per termine l'i tiene la probabilità intrinsica che i di conseguenza da un prodotto degli n i fattorial cada uno lo pongo con i di conseguenza a il k alla n visto questo quindi quello che abbiamo che fare è contro il massimo la massima probabilità però abbiamo visto si può passare al logaritmo che non mi cambia nada solo è più facile perché invece di una produttoria tengo un assumatorio molto più senzile in questo caso con la probabilità del logaritmo 6 questo il fattorial non è sencilla però può usare la la funzione di sterling para aproximarla questa e després hacerne la derivazione il differenzial e di conseguenza per questo non è considerato le constanti perché non era poi se elimina abbiamo quindi le varie condizioni una che si tiene massimizzare la probabilità poi le altre due condizioni una che il numero di partito deve conservarsi quindi sempre uguale un certo valore a sua sommatoria e che l'energia interna se conserva di conseguenza in i insomma la sommatoria tiene che dar la mia energia interna questo ultimo dos me definen una varietà perché diciamo di todo lo stato possibile o solo alguno disponibile tengo la funzione che tiene che ser incontrare 0 se moltiplica cada uno para uno de lo moltiplicatore e se somma e questo tiene che darme 0 essendo che moltiplico por tre variabili io semplicemente tomo la prima variabile e divido todo por resta di conseguenza al final voglio semplicemente che il primer moltiplicatore lo tomo uguale a 1 anche perché chiamo la probabilità difficile che questo sia 0 che me vai a un valore 0 e a si e io tengo che la differenziale del algoritmo di qualità mi sale a si di conseguenza da questo simplemente hai la sommatoria del dni uguale a 0 e la sommatoria del dni per la i da 0 ponendo tutto questo punto quello che ottengo è che la sommatoria come sia dell'ovario moltiplicato di conseguenza a casa seria meno para semplici algo le cambio il segno tanto come tomar meno uno come segno come molti datore non cambia nada se no después tendria otro paràmetro con signo invertido lo que encontro logaritmo n i 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 teniamo esta condizion dentro se qua è solo un uno c'è no un eta perché esta multiplicato por eta esta multiplicato por esto vediamo un beta e esto igual a c'è esto tende che valer por cada sistema degli dna il il se non hubiera esta condizione mas se tendria simplemente che esto tiene che ser uguale a zero e abria banalmente gli i uguali allo che sono praticamente se rilinan di quanto è la el factor de degeneración que exactamente quello que quiere decir degeneración hay g1 partícula con la misma energía de consecuencia entre ellas no son distinguibles son degeneradas porque tienen la misma condición de físicas todos juntos esto tiene que ser zero de conseguenza se tiene que ser zero per cualquier valor del dni chiede decir che cada elemento della sommatoria esto che moltiplica tiene que ser zero esto la matematica non dice che esta è la unica soluzione di conseguenza tenemos esta che richirandola non era da massi che che mi da questo è già questo è algo familiar che può ricordarsi hai un cambio una cosa che la questa parte perché che i por l'esponenziale a meno beta e i che sta bene quello che non sotto l'ora chiamo secchiere e semplificare sto e trattando incontrarle una maniera di esplicitarlo in un'altra maniera e se è possibile questo perché età non è nada mas che il maturale si è connettato alla sommatoria di tutto lo valore certo dove di tutto lui di conseguenza non sa nemmeno che n è uguale la sommatoria di n ma viene il dato da che per e almeno eta e alla meno beta e i notar che a stavola eta e beta sono solo due parà metri che non abbiamo messo che sono un modificatore di Lagrange sono entrato perché sono quello che non aiutano a definire meglio almeno a contrarre e non ci sono dei valori non ci sono dei valori non ci sono dei valori e non ci sono di un nome particolare ed è definito come seta che la funzione partizione che define la proprietà di statistica del sistema di conseguenza teniamo che e alla meno età non è data mas che n dividido seta e di conseguenza e sono scomporta che gli n e i non è data mas che n dividido seta che è alla meno età e con seta definita in essa maniera ed è questa è esattamente la funzione generale per la distribuzione di Marzell-Voltz come bisogna vedere è stato semplicemente ottenito da considerazioni propie del lì e tengo tutti elementi come indistinguibili io lo rendo nei vari nivelli e di conseguenza cada la distribuzione la maniera di distribuire nell'ovario il livello energetico ottene una certa probabilità e massimizzando questa probabilità mi dà questa che è esattamente quello che è la distribuzione la più probabile e di conseguenza quello dove generalmente mi esse elemento tende a seguir altro punto è la distribuzione di energia interna che è nada mas che n i por i la mia interna è data da energia di cada livello per quanto particolari stanno in questo livello e di questo però ora in lì sappiamo quanto è e lo possiamo sostituir ora questo è algo stante che i accateniamo un e i por l'esponenziale di meno algo por questo e i di conseguenza questa parte la potremmo ver come meno la derivata di questo rispetto a beta perché mi dà lo mismo valore questo è una costante generale la sacco a fuori e e n e beta o meno chi e alla meno beta e è uguale assieme in beta e sto non dipende da beta di conseguenza tra la costante l'esponenziale mi dà il mismo potenzial meno beta e i differenziando por d beta nada mas che meno i col meno se morra e ora io ottengo esta di conseguenza può dire che l'energia interna non è nada mas che n su la funzione di partizione per la derivata rispetto a beta di questa sumatoria questa sumatoria non è nada mas che meno z la conseguenza ottengo meno n su z por d z in d beta quiere dicir che mi energia total è meno n por derivata del logaritmo della funzione di partizione rispetto a beta ora dividendo por n entrambe la parte nos viene che l'energia media e se esto no è nada più che del ritmo di z in d beta di conseguenza se può intuire che la energia media è in qualche maniera conectata con il beta perché derivando la funzione di partizione por il beta ottengo la energia media del logaritmo natural di z beta deve essere l'inverso di una energia perché acá tenemos esponenzial può essere solo un numero puro a cada energia por beta di conseguenza deve essere 1 sobre una energia al final acá lo facciamo veloz ma diciamo se usa definire beta esattamente come 1 kb t e di conseguenza ottener la energia questo come la conoscemos n uguale n z chi e alla meno e dividido k per la temperatura che è esattamente la classica manera di representare la distribuzione di Maxwell Boltzmann in genere in general se nosotros queremos hacer una media di un certo paràmetro f esto nada más no igual no se hace que sumar pesar la quello que quiero mediar sobre la distribución de los varios estados porque cada estado tiene esto peso esta representación ni de conseguenza la f peso por cada nivel donde se encuentra yo tengo el final se por caso f no depende de la energía del estado entonces es constante en cualquier lugar eso se extrae pero esa somatoria se vuelve z z z z z c1 de consecuencia hay lo obvio que la media no es nada más que el valor constante que estaba caratterística se mantenendo todo uniforme misma temperatura se yo subo la energía del nivel entonces voy a ver como se poblan niveles de energía más alta esto diventa siempre más chico porque es un mino de consecuencia y en ley tendan a ser siempre más chicos entonces lo que veo que al hacer una energía siempre más alta en los niveles los niveles son poblados siempre menos si yo aumento la temperatura que lo que tengo es que esto tende a 0 de conseguenza esto tende a 1 y la parte baja de consecuenza mi valor que dato el NI dato el producto de estos es siempre más grande porque esto tende a un valor menor que 1 a cerca de 1 entonces creces entonces digamos Max en Bolzeman estas dos características a niveles energéticos más altos tengo sempre menos partícula a menos que no caliente más el sistema que entonces eso causa de redistribuir la partícula hacia niveles energéticos más elevados se vuelve a ser en vez de la temperatura próxima al cero absoluto si hago tender esto a 0 esto tende di conseguenza a i por algo che tende a infinito e alla meno infinito me fa 0 a meno che i non sia 0 di conseguenza quello che ottengo è che la temperatura che tende a 0 assoluto e se vuole tipo una delta mas che todo e sta parte una delta di dire che vale concentrato todo l'elemento nel primer nivel energia 0 e afuera 2 nada che è ovvio da un punto di vista perché allo 0 assoluto che si è dimostrato che effettivamente non è possibile allegare ma allo 0 assoluto deve essere todo parato di conseguenza quello che tendria è che l'energia effettivamente essa energia la vamos a ver con energia cinética se van 0 entonces toda la partida devia estar parada entonces están todas en primer nivel energia 0 e 0 de la otra parte de l'energia se vamos a ver estas son varias valores de de l'energia esto en questo caso come distribuito por velocità l'energia è uguale a come veremo entre poco velocità al al quadrato le conseguenze atti che se un pequeño cambio di scala però a una temperatura di 600 grados celsius di conseguenza tiene 873 kelvin justo perché meno 100 tenemos una certa manera mas nos bajamos la temperatura mas se concentra hacia bajo nivelles nel caso che fuori a 0 è simplemente acá che va a infinito la serie llena hasta la n con solo la particola e poi 0 d'altro lato e come si dice quando l'energia a nivelles è sempre meno poblado a meno che non aumenta la temperatura e di conseguenza lo antes la particola era principalmente 300 metros por segundos e k invece è más alrededor de 700 il valor medio una considerazione che si ha a sé sulla distribuzione sempre considerando un gas perfetto monotomico un sted di idea perché sempre si ha de gas perfetto monotomico in questo caso sempre si ha per esempio hidrogino neutro non molecula di hidrogino l'aceto sempre gas monotomico per 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 il modo sia più sim in che sentito non lo so al quadrato se io tengo una molecola ademais di questo questo può oscillare in questa maniera può rotare in un plano può rotare nel altro plano ok, sul eje del ligme cambia poco, di conseguenza ma può rotare in un plano e può rotare nel l'altro di conseguenza tengo molto più nivelli di libertà tengo molto più la energia è in altra modo dell'altro si può excita molto più nivelli e comienza a essere abbastanza più problematica di ciò è la l'emissione di dipolo quadrupolo e hacia delante mentre un atomo monoatomico cada uno è vista come una pelota che si muove a lo máximo tiene un nivel energético di elettroni ma in questo caso non si considera anche perché nel nostro caso è plasma di conseguenza è tutto ionizzato e vamos a tenerlo molto più sencilla una razione es quando in fisica sempre quando si hace il gas è perfetto perché si comporta bene quindi abbiamo una aproximazione più sencilla perché se non per esempio il volumente nella classica c'è stato io posso poner molto ma ovviamente non posso in un gas realmente reducir il volumente quanto voglio perché a un certo punto la particola comienza a ser demasiado cerca e non hai lincu dos cuerpos non possono ocupare il mismo espacio di conseguenza la fórmula exata seria con volumen meno una certa cantidad che generalmente è tan chica che non è di interesse per condizioni normali va solo quando voy a caso más extremos di conseguenza exactamente monatômico perché così tengo solo moto che trasla non tengo rotazione oxidazione ma sencilla la mia energia è questa ovvero che il momento lo puedo ver come i después si semplifica perché il gas tiene toda la misma particola la misma massa e di conseguenza il pi è conectato semplimenti a nivel energetico otro concetto e che è necessario non so se l'abbiamo menzionato è quello che si chiama l'espazio della fase spazio delle fasi è che generalmente quando io miro da un punto di vista l'universo fisico lo veo in tre dimensiones e doi a cada particola la sua posizione questo sta bene però in fisica in realidad hai sempre quello che si chiamano le variabili coniugate realmente sono sempre parecchie e dar la posizione di una particola non è sufficiente per describirla bene quello che io devo dare è posizione e momento o la velocità che sentiamo di hecho la sono un esempio di variabile coniugata o tra e tempo e energia variabile coniugata è anche un concepto che entra parlando del principio di sentitumbre perché per esempio sentitumbre habla del prodotto di sentitumbre di dos variabili che sono coniugate entre ellas dejo se puoi facilmente vedere che il prodotto di dos variabili coniugate è simplemente ace di conseguenza quando si ha lo spazio della fase che in questo caso è tipo por cada particola si considera su coordenata spaziale e su coordenata dinamica su velocità o vabbè per su momento di ciò se puoi den ver la varia caratteristica se con per esempio un urto io tengo una particola parada in un lugar al centro del sistema di coordinanza e un oggetto particola che va a chocare su una linea io tengo l'origen con una particola aca e aca una particola che le va in contra di conseguenza sendo questa constante questa particola avrà sempre P constante per si muoversi al centro quando llega aca e sta se scambia con esta di conseguenza esta separa la posizione e l'altra continua perché in questo caso seria negativa la velocità però va beh mantiene la velocità dell'altra osservando che tiene la misma massa e va in posizione ora aca atrás di seria aca va perché se no è positiva d'orea air se no si può avere questa maniera liga dall'altro lato in questo caso generalmente quello che interessa è considerare le posizioni del nostro gas per effetto monotomico esattamente nel spazio della fase come se distribuye in cada punto quanto están beh in posizione hai una particola per posizione perché dos particolas possono tener la misma posizione e varia velocidades la unidad de volumen hypervolumen in tra della fase non è nada más che acce alla tercera tomando acce come elemento minimo de tamaño per la vario cada elemento o cada parte è un posizione ep che è un h per tre direzione in posizione x y e z posizione la tre e velocità della tre e tenemos un h alla tercera acce è bastante cico le conseguenza diciamo se il volume occupato è bastante in condizione normale ma gas normal teniamo che diciamo il volume normal occupato aspetta della fase è molto maggiore che un h cubo di conseguenza puoi ottenere questo considerato ops no non la pi sì perché che le pi sono massomeno continuas tecnicamente cioè a stavore abbiamo sempre considerato valori discretos ma la poto considerare continuas perché diciamo che il valore dpi è molto più grande che un h e di conseguenza la variazione di un h può considerare praticamente conseguenza quasi continua la variazione di conseguenza dal di io se passa a una notazione diferenziale integral quindi che era quanta particola stavano nel velo i e se trasforma in quanta particola hai con energia e per l'intervallo d energia anter era semplicemente che era uno perché era discreto ora entra perché le cambia liviamente un po' la definizione complicare solo un numero di particola ecco il numero di particola per intervallo di energia questo non è da mas quanto vale il volumen occupato dividito l'unità entonse il volume è 4 pi greco per quadro di per il volumen spaziale questo lo so bene perché il volume è ben definito spazialmente la volumen dello spazio ed è sempre costante il mio gas sta dentro un contenitore di conseguenza non 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 cambia quello che cambia invece è l'espazio il nome particolare dipende dalla velocità dal momento e di conseguenza questo è il suo volumen e lo divido per quanta unità hai e di conseguenza questo mi dà il numero di particola che hai una certa energia perché è una funzione dell'energia perché l'unica che abbiamo è il gas monatomico energia kinetica di conseguenza la traduzione las tre se es scrivendo 4 pd v 2m la particola vabbè sono todo uguale di conseguenza non è necessario poner l'indice che che differenza da una particola e l'altra lo teniamo visto z non è massimo sommatorio però in integral l'energia va da 0 per arriva e e a meno e k pt di che haciendo il calcolo viene questa maniera dh simplemente energia media che era meno la derivata del logaritmo naturale dz rispetto a beta questo di conseguenza avviene bkb t quadro ah sì por d naturale dz rispetto alla temperatura e col calcolo mi dà il classico dos kbp che è la quello che appunto praticamente non so se avvi già visto una parte in fisico al collegio che l'energia media por particola cada traslazione tiene un medio kb 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 la temperatura tengo il movimento in tres direzione intonse tres veces da questo il den non è la masche numero total dividido da z che ha una certa di 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 Va bene, una classica rappresentazione della distribuzione di Maxwell in versione integrale. Come si diceva prima, se voglio fare la media di qualcosa, simplemente multiplico questo, che il DN per la variabile che voglio medire, è qualcosa di integrale soprattutto. Ok. Questo perché, vabbè, noi lo so trovo principalmente se userà la notazione integrale, perché è ma sensiglia, che è quella della sommatoria, e anche perché, diciamo, la unità di energia è abbastanza piccola, generalmente, rispetto alla energia che abbiamo. Di conseguenza, in tutto il caso, possiamo considerare che sia una variazione continua della energia, e, generalmente, sempre gas monatomico, o, perlomeno, particolas singolas, non composta, ioni o elettroni di questo tipo, di conseguenza, cada uno seguirà una distribuzione di questo tipo. Nel caso, maxwelliano. Allora, maxwelliano. O, maxwelliano. Ok. Ora, vamos a vedere un esempio, ve lo muoviamo a considerare bastante rapidamente. l'equazione di stato. Generalmente si pone sempre il classico PV è uguale K, P, N, P, N, P, T. Lindo, ma però, perché? Lo vediamo un poco rapidamente, con la curiosità. L'entropia, sabemos che la sua variazione di entropia è nada ma che DQ su DT. Definizione. L'entropia è definita in questa maniera, in versione differenziale. Che non è la... Questo è il differenziale esatto, non il DQ. O, esprimito in altra maniera, il primo principio della termodinamica, in questa maniera, che vuole dire DQ ma la presione del volumene di temperatura. Ok. Come varia? Cosa nos dici i principi della termodinamica sui per la entropia? E in un sistema come va la entropia? Hai alguien? Tengo a un alguien conectato? Si. Nade che se trene? Si. E' il classico... Chiste che si dice quando ti dicono di ordinarla la abitazione. Nunca disminuye, ma... Si, nunca disminuye. Ma che tutto, tende a valori più grandi. E... Lo romenonamos... Tambien antes... Che... Otra cosa... Il sistema tende a valori più grandi. La abbiamo menzionato in dettaglio ayer. Se io ho varia funzione di particione, una più probabile di altre, quiere dire, una con più stato di l'altra, che... Il sistema fisico tende a muovere da... Lo sistema... Da la funzione di particione con poco... La rappresentanza... A... E... E... Stato... E... Con mayor rappresentanza. Quiere dire che... Un sistema... Naturalmente varia da... Sistema a baja probabilità... A sistema ad alta probabilità. Che da un punto di vista... E... La... Expresione... De meccanica estadistica... De la entropia. E... Se io... Tengo... La... La particola del gas... Toda... Compactata... Y una esquinita... Y nada... En toda la... De la caja... Donde está... El volumen... Es un sistema... Muy poco probabile... La cosa más probabile... Es que... La particola sia un poco... En cualquier lugar... Que... Es... Tiene mucha más posibilità... Perché se están todas colapsadas... In un punto... Eh... Nel espazio della fase... La velocità... De todo a cero... El espacio... Son... Más o menos... Todo... Acá... Centrato... Mentre se io considero... La posibilità... De su volumen... Que... E... Acá... Si se distribuye... En... Todos los lugares... Voy a tener... Que... Opa... Mucho más espacio... Y... También... De velocidades... Que pueden tener... Eso... Es más probabile... Como... Hay muchos más casos... Porque yo... Cada uno de estos... Puedo invertirla... Varias... Particolas... Entonces... Hay mucha posibilità... De... Porque... La energia... Que da un punto de vista... Que se conserva... Entonces... Yo puedo... Mantener la misma... Velocidad... Ma... Simplemente... Invertir la posición... A grupos... O... Muchos más casos... De consecuencia... Que lo que me dices... Es que... Un sistema... Me pasa... Da un sistema... Poco probable... A un alto... Probable... Pero también... Principio de... Ternodinámica... Me dice... Que un sistema... Varia... Da un sistema... Vaca... Entropía... Alta... Entropía... De hecho... En mecánica... Estatística... La definición... Entropía... Es... Es... Constante... De Bolsman... Pel logaritmo... Della... Probabilidad... La... Probabilidad... Nosotros... La... Vimos... Antes... Esta... Vale... N... Meno... Ni... Logaritmo... Ni... Por aquí... Por aquí... Sostituyendo... Ni... Como ya habéis visto... Cáles son los valores... Y hacia adelante... Haciendo... La... Su... El diferencial... Porque no queremos un DS... Y comparándolo con esto... Quello... Che tengo... E... Considerando... Che... DT... E... Cioè... Conseguimos... Todo... A... Temperatura costante, quello che ottengo è la pressione nella damasca KbN per T, quindi a temperatura costante, e questo al final dobbiamo vedere che il suo valore è 1 sopra il volume. Quiere dire che l'equazione di Stato non è casuale, se io tengo una distribuzione marxuelliana, i vari Stato tendranno una probabilità P, caratteristica della marxuelliana, di conseguenza l'equazione di Stato tiene che essere questa. Questo, diciamo, è un risultato interessante perché lo dimostra che è questione di Stato, e infatti penso che talvolta avverranno anche meccanica e statistica, a cambio velocemente non sa se è tutto lo calcolo perché non tiene importanza, però ho ottenuto la nostra distribuzione e statistica, caratteristica del sistema, mi dà sopra l'energia, ma al final mi definì, define anche la questione di Stato. Di conseguenza, data una certa meccanica di distribuzione e statistica, ottengo una certa equazione di Stato. Di ciò similmente, lo vedremo ora nella prossima, che è un'altra, è una, molto importante per quello che ci interessa, in generale perché dà diversi dati interessanti. Max e Boltzmann era la bella generica, dove si può fare quello che si vuole, con una certa limitazione abbastanza meno, ora dobbiamo considerare anche quello che sono gli effetti quantistici, parlando di particolari, la quantità entra e, di conseguenza, consideriamo il principio, di excluzione di Pauli, in principio, di excluzione di Pauli, otteniamo che una forte descrizione, che il GNI può essere solo meno o uguale a que i fattori di generazione. Il famoso è che due dati del sistema di energia, due particolari possono avere due sistemi di numeri quantici uguali. quindi, uno è quello della energia, la N, o tutti gli effetti che sono la degenerazione, quindi due particolari possono avere la stessa energia, però possono avere tutte altre serie di numeri quantici, che danno la stessa energia, però con altre caratteristiche. questo è il GNI, ovviamente, però non possono avere quello che vogliono, perché il numero quantico ha un limite a i valori, di conseguenza, io ho un limite a i fattori di generazione, e quindi quello che ho ho è questa forte limitazione, che il GNI può essere meno uguale al GNI, non può essere meno uguale al GNI, questo vale una distribuzione di statistiche, che vale in generale per tutto quello che ha una autofunzione antisimettrica, o, come si dice, con un spin semientero. Llamato fermione, perché corrisponde alla distribuzione di fermi diratti. quindi tutto quello che ha un spin semientero, va a essere fermione. Il classico sono protone, electroni e neutroni. Però, come vedremo dopo, non solo in realtà. E, di conseguenza, il GNI è la degenerazione del livello elettronico, del livello energetico. In questo caso, la probabilità cambia di conseguenza, io ho ottengo la produttoria del GNI factorial, perché una volta che io pongo uno, tengo una maggior limitazione, di G-NI, per GNI factorial, che significa la GNI binomiale. Quindi, la probabilità, lo stesso, se trasforma in logaritmo natural della probabilità. abbiamo, come antes, gli GNI uguali, che sono la somma del GNI da Mn, e la sommatoria del GNI, che mi dà la energia total. similmente, se hace la derivazione di questo, derivazione di questo, e se moltiplica per uno, derivazione di questo, e se moltiplica per mietta, la derivazione di questo, e se moltiplica per mietta. di questo, la stazione di questo, lo faccio come tarea per il lunes, è simpatico, è abbastanza il calcolo, per il la fermi di Iraq, non è nada di particolare, è simpatico, perché al final quello che ottiene è un NI ugual a CHI con un pequeño cambio a causa della introduzione di questo, questa varia, che è un E alla ETA mas B por EI. mas 1, che diciamo è il cambio sostanziale, dal punto di vista come Maxel Boltzmann, anteriormente il mas 1, era semplicemente questo, e causando, e sta al principio lì, se causa il mas 1, che lo potevi notare, se le energie nel livello sono bastante elevato, questo è abbastanza più grande del 1, di conseguenza si può trascurare, e di conseguenza le fermioni per il livello energetico abbastanza elevato, si comportano similmente a Maxel Boltzmann, di conseguenza, si comportano similmente a un gas perfetto monatomico, con l'equazione di stato del gas perfetto monatomico. l'abbiamo visto assorato, che questione di stato mi viene esattamente da usare la Maxel Boltzmann. Di conseguenza, se vale Maxel Boltzmann, vale, mi classico, la questione di stato del gas perfetto. Generalmente, a casa si hace un pequeño cambio, si rinomina la ETA con un meno beta Epsilon F. Di conseguenza, esso se riscrive con un chi meno E beta EI meno F. F è la energia dei fermi. E, banalmente, Kb Tf è uguale a F è per definire la temperatura dei fermi. Veremo in un rato perché considerare questo. Ora, eh, para considerare le cose, consideriamo come antes. Abbiamo già visto che questi sistemi energetici sono alti. Vamo a tener, che si comportano come Maxel Boltzmann, abbiamo visto con Maxel Boltzmann, che se io caliento, mi s'inlienano a livello alto. Di conseguenza, ad alta temperatura, questa cosa mi lieva sempre che si comporta come una Maxel Boltzmann. Perché tendono i livelli a essere più rallinati ad alti valori. alti valori. quindi, se consideriamo l'altro. Il classico che il un limite per temperatura a prossima a mi accerco allo zero absoluto. Quiere dicere che beta tende a massa infinito. Ups. E, in questo caso, quanto vale? Beh, se E meno Epsilon è mayor di zero, e sto congelando praticamente il gaso per F. Il livello energico è più energetico di questa energia di Fermi, che spesso lo vamo anche a calcolare per quanto vale, perché è conectata con le caratteristiche fisiche. questo è maggiore di zero, se beta tende a infinito, questo è maggiore di zero, questo tende a infinito o meno. meno infinito, meno infinito, maggiore di zero. per zero. meno F è meno zero, quindi per un stato energico inferiore che è che è è che da uno e di conseguenza tengo gli che è esattamente zero e esso è zero, esso è uno, ma su uno e che poniamo EF medio divido dos. di conseguenza la dove vediamo qua come se sia anteriormente se la temperatura è bastante elevata il comportamento è similar a di una marcelliana che è una marcelliana a varia temperatura però quando comincio a infriare questa linea è quello che mi dà il limite imposto per il principio di di conseguenza inizia a deformarmi quello che passa principalmente è che in questo caso io tengo che al livello energetico mas alto non tengo particola al livello energetico mas bajo reglino completamente mis che e e spesso hai valore che diciamo il medio è un classico valore teorico quando ottengo discontinuità le conseguenze quando t tende allo zero assoluto quello che mi funzion si trasforma a quella di un escalone con l'energia esattamente a f antes tengo todo reglino perfettamente dove spesso f todo vacío non è come nella Maxwell Boltzmann dove tendia una delta di Iraq tutti allo zero erano tutti felici in questo caso invece la non pueden perché il principio di pauli mi dice che non non possono avere più di particolare con la energia di conseguenza a nivel cero 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 in versione integral che d è ugual a che diciamo il fattore di generazione parlo spin perché principalmente quello che mi caratterizza le varie a un medio per per il volume per P4 H3 di 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 omega simplemente cambio la notazione a coordinata explica come angular antello è incluido come un 4 pi greco che di conseguenza mi viene che dos perché il che è senso caso spin dos 4 pi greco costriamo fermione principalmente per il volume dos la massa al cubo un medio ha bastante parecido antes anche perché la il calcolo è uguale quello che mi cambia è quando calcolo poco dentro la distribuzione se troviamo a quanto sono la n è simplemente 0 a infinito por n quiere decir da 0 a infinito dn su d e non è tan senzio da calcolare la quello che io credo a ser che ma senzio e se considero e di conseguenza anche l'energia total che è 0 infinito e su dn però se considero che la temperatura è molto meno poi vedremo in realtà una aproximazione che tiene più sentido che il caso generico qualche gas può mostrar molto bene la distribuzione se voi calcolare questo quello che io tengo come decía è che i n varian con il in realtà non è tanto scalino a scalone perché come si mostrava justamente acá i limiti van crescendo quindi ha una in realtà viene che cresce hasta un certo valore poi se interrompe in adelante di conseguenza posso considerare la volume aca 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 che se sono uguali seria un escalone se no esta la parte aca depende da come varian lo che lo che con la energia esto è molto più sencilla perché è questa area di conseguenza in questa aproximazione che la donde la degenerazione è più forte quindi il gas si comporta muestra degenerazione ottengo il valore esattamente con la energia girandola può ottenere di conseguenza sendo che è un i per la base aca energia di Fermi questo mi permette calcularmi la energia di Fermi per caso del molto che è 2 h al quadrato sobre m per 3 n più il volume alla 2 terzio questo facilmente può comprenderlo perché integrando l'energia mi sale a 3 e aca tendria una n quindi lo divido n e girando dalla energia la densità vale 2 terzio n e io posso rever come un h quadro 8 raggruppando la costante n su v è la densità numerica 2 terzio sopreme l'energia totale di conseguenza no nada más che il tre quintos il numero destra del f che l'energia e di conseguenza altra modo mi conseguenza per escribirlo a veces poniendo con la densidad la densidad me entra eh dalla densidad numerica con la famosa eh 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 la massa media e diciamo è la formula un poco mas famosa para il in fisica quando si considera e tanto per avere un'idea è 0.26 massa e massa dell'elettrone a la meno 1 densità e milioni del gramo por centímetro cúbicos no tercios e listo in mega elettronvolt e come decía rho 6 no è da más che rho dividido 10 a la 6 gramo por centímetro cúbico la eh de questo quiere decir que si consideramo electrones con la densidad alrededor de los 10 a las 6 millones de gramo por centímetro cúbico que no è poco è una tonelada por centímetro cúbico un dado che puede ser de juegos che me pesa una tonelada non è poquito è l'energia tipica de Fermi e 0.26 megalentronvolt in la temperatura de Fermi in esto caso che era appunto quella precedente por una eh ne diede Fermi de 0.26 vengo dentro un volt e más o meno 2 3 10 a la 9 Kelvin una temperatura non esattamente baja ed a cada un punto de vista che entra tambien del discurso perché diciamo se il gas tiene una temperatura inferiore a la temperatura di Fermi che la temperatura diciamo eh quiere decir che la energia térmica delle particoli sono menore della energia di Fermi io voglio notare la degenerazione quando superano questa energia si rompe la degenerazione e questo è anche la ragione perché se hable del gas degenerato di electroni perché può avere necessità abbastanza alta e vedremo nel prossimo gruppo dell'unità 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 ma se io passò a protone o neutrone questo tiene una energia che una massa che è 2.000 veces quella del dell'unità 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 che dire che l'energia di Fermi è riferita per ello a mesmas condizioni 2.000 veces più di conseguenza la temperatura di referenza è molto più e facilmente che il gas abbastanza più e non note la degenerazione vedremo un ratito il la ultima che è la e poi possiamo resumir per vedere meglio le cose anche perché questo non va al principio di paoli perché sono autofunzione io solito la f simmetrica spin intero e spin quello che sono lo bosone da bosan st classico esempio sono che sono bosone o che sono sistema di ondas però in questo caso la probabilità è similar ma un poco differente è sta quella ma che tendranno usare la parola lo calcolo è sì è binomial non va prodotto dello che i massi e nei e che i meno 1 sopra n 1 binomial a casa similmente sommatoria degli anni è costante e la lì sommatoria di e energia interna ma che 21 eta e beta a cari siamo un poco ma stricchi perché in realtà allora il risultato quello che noi vogliamo è questo che è la zona del bosone in realtà quando facciamo il calcolo aca non è perfetto e sale un gii meno 1 aca e verano come se resuelve è se ponen problemi a ponerse molto di conseguenza facilmente possono vedere lo fotone facilmente cada uno tiene una energia muy chica respecto a la energia del sistema di conseguenza lo canhsero muchos lo che i sono molto e di conseguenza la la gi generalmente sempre è molto mayor che uno di conseguenza gi meno 1 lo puedo il g meno 1 lo prossimo con un che simplemente es alla classica diciamo quello che no sotro mas interessa in sto caso fotones non tanto bosone e lo fonones e otro lo fotones corponegros classica cavità dove tutti gli elementi sono sono absorbito e remitido però se lo fotone sono absorbito e remitido absorbito e remitido e mezclando con la energia perché a veces absorbito una energia e remitido con otra e e la energia si che se conserva ovviamente perché la energia sempre se conserva dentro del limite del principio di sentitumbre però estos no il numero di fotones non se conserva di conseguenza potremmo botar la vita e nos quedas la simple version in questa maniera che è la classica che va bene haciendosi lo calcolo in questo caso l'energia è pe por se che le sia a cenu nella versione integrale è occio pi greco il volumen se la terza quadro de nu e a cenu diviso kb te meno uno la energia ha un certo e a cenu dividido il volumen por den por denu occio pi greco h no la terza sera con il classico e il se hacemos il calcolo totale l'energia non sa a te alla quarta a è un parametro che siamo esattamente a che è 4 collettato con la famosa costante stefan bolt ma diciamo quello che ma e diciamo resumendo la e considerando diciamo in densità numerica di conseguenza qua qua che con tutto che era il volumen da numero esatto di particola dividiamo per volumen e la densità numerica degli stati le ne è ugual in generale la possiamo resumir in questa maniera una otta età por e k me ma se donde se è uguale a 0 per la maxwell Boltzmann ma su uno per la fermi dirac meno uno per la boss Einstein la forma è la la forma è la è semplicemente questa costante che mi varia a seconda se è gas perfetto normal o l'altro 2 la età è un parametro diciamo quello che è un parametro di generazione che è stato con il numero di particoli che possiamo vedere che se è bien grandende positivo è donde mi lievas a tener moi pochè questo caso sei visto grande o positivo ha il suo domina a rispetto alla costante se itu sagte da come eccoermu È bello nell'altro caso che nemente quando il prossimo zero magari è si elimina come la la è era disadvantaged o nel caso che sia negativo, abbastanza grande, va quello che abbiamo visto presentemente, che è meno beta di Fermi che la Fermi di Iraq. Cosa cambia tra le varie? La temperatura, l'energia térmica è comparabile con l'energia di Fermi che, come ho visto, dipende dalla densità alla 2 terzios. Come potete vedere qua, ad alta energia, ad alta temperatura, le 3 si comportano abbastanza similmente. Quando io riduzco, quello che ottengo è che il gas normal, classico, ha questo comportamento. La Fermi di Iraq, per la questione del Palmi, non si rilena ugualmente, ma è più limitata. Mentre la Bose-Einstein, i bosoni sono più felici di stare, come dice, like to be in the same energy state. Le costa più stare tutti insieme, e, di conseguenza, tiendono a rilienare più stati energetici più bassi. De conseguenza, la, eh, teniamo, eh, eh, effetto, che mass riduco, tendo a rilienare ai, lo, Bose-Einstein, che tendono a rilienare, a un mass che, la, a Max-El-Botsman, lo stato energetico, bajo mentre la fermi dirà che se desvia completamente come forma e va a dar la forma de escalone a casa si può vedere la seconda della dell'energia è stata diciamo è una energia térmica che è similarmente alla l'energia di fermi reale ad essere la epsilon f ma quando la energia comienza a essere sempre più chica quindi la energia di fermi è sempre più grande rispetto alla energia térmica l'effetto che induzca la distribuzione comienza a essere sempre più visibile il termineria ora h e poi in caso vamo a ver il lunes ricordo il martes prossimo il vamo recuperare una classe di conseguenza faremo presenziales teniamo classe il lunes e il martes in f se ben ricordo si abbiamo classe per settimana presenzial il lunes il bloc c martes lo che f miarco poi il lunes bloc c e poi il jueves bloc d poi tendremo il recesso per il 18 a regreso ugualmente tendremo che operare una classe e anche la prima settimana di ottobre perché non abbiamo molto tempo l'abbiamo però questo lo vamo a rever il lunes di resumo a la questa parte perché dopo quando vedremo quando vedremo la presione vedremo bene ancora più il problema con la fermi di racco non vedremo che non vedremo il lunes in istituto iscriviti al canale Grazie a tutti